Lo aveva preannunciato tra le righe qualche settimana fa durante la sua ospitata al Graffio Live Show, ma l'indiscrezione girava tra gli addetti ai lavori della politica già da qualche mese. Ieri è arrivata la conferma ufficiale attraverso un suo post su Facebook pubblicato a margine del Restitution Day che il Movimento 5 Stelle ha organizzato a Palermo a favore degli atleti paralimpici siciliani. Lucio Di Paola ha ufficialmente dato al gruppo parlamentare pentastellato la sua disponibilità alla candidatura per la presidenza della regione. Assieme a lui hanno espresso la volontà di correre per Palazzo d'Orlean anche i colleghi parlamentari Luigi Sunseri e Stefania Campo. Per Di Paola si tratta di una vera e propria scommessa che arriva al termine della sua prima avventura politica da parlamentare regionale dopo la breve esperienza nella prima giunta grillina a guida messinese, chiusa con l'esautorazione degli assessori del Movimento e la fuoriuscita del Sindaco Day 5 Stelle. Una scelta quella del parlamentare grillino che Di Paola spiega così. La disponibilità non era ufficiale, l'ho reso ufficiale ieri tramite un post Facebook. La disponibilità alla candidatura alla presidenza della regione l'avevo già data al mio gruppo dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle qualche mese fa. Partiamo dal presupposto che sono contro, e l'ho detto più volte, a qualunque tipo di personalismo. Ho sempre detto portiamo avanti il noi e mettiamo da parte i personalismi, personalismi che all'interno della regione siciliana hanno fallito, lo abbiamo visto negli anni. Il punto però qual è? Che in queste settimane, in questi giorni, sto vedendo sempre più autocandidature da parte di molti che spesso, nonostante la stima che posso avere nei loro confronti, spesso non vedo all'interno dei territori. Allora ho detto a questo punto rendo pubblica la mia disponibilità e da qui inizio un percorso, perché inizio un percorso che continuerò a fare nei territori, continuerò a fare rete con tutti i territori, e poi soprattutto cercherò con metodi alternativi come chi mi segue già conosce, vedete il giro che ho fatto in Sicilia con i treni, piuttosto che il giro delle incompiute, cercherò di aggregare tutte quelle persone che al momento fanno tantissimo all'interno del posto in cui vivono, ma che non hanno la ribalta mediatica, quindi cercherò di aggregarli e aggregerò pure tantissimi amministratori che lavorano al meglio nei loro comuni. Una proposta di candidatura che adesso dovrà fare i conti con le dinamiche interne al Movimento, e anche da quest'anno per la prima volta alle regionali, con i partiti della possibile coalizione, a partire proprio dagli alleati già rodati del PD. È un percorso che è iniziato già mesi fa, per dire la verità anche anni fa, e adesso è un percorso che deve andare avanti all'interno del Movimento 5 Stelle, ovvio che ci saranno altre possibili disponibilità, e dopodiché attraverso una concertazione con la coalizione che nascerà per poter governare in futuro la regione siciliana. Ma ripeto, ho sempre fatto l'appello di mettere da parte i personalismi e di portare avanti il noi. Questo deve essere la stella cometa che ci deve guidare per poter effettivamente cambiare la regione siciliana. Luccio Di Pola, secondo Presidente della Regione, dopo Rosario Crocetta, Di Pola ci crede davvero? Assolutamente sì, certo che ci credo perché altrimenti non avrei dato la mia disponibilità e non l'avrei resa pubblica. Hai fatto il nome di un passato Presidente della Regione che veniva da Gela, ma lì c'erano dei personalismi e c'erano dei personalismi forti. Io invece questi personalismi li voglio mettere da parte. Oggi per rilanciare la Sicilia e per spendere in maniera concreta i fondi del PNRR, serve da mettere da parte qualunque tipo di attaccante in gergo calcistico e mettere davanti una squadra, allenatori, registi o persone che dialogano e concertano per trovare delle soluzioni.